E dunque, calcio d'inizio. Queste due squadre si incontrano per la seconda volta quest'anno. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Credo che Giacomo meriti una menzione speciale. È un grande goleador e sa anche creare occasioni per i compagni. Inoltre ha una grande dote e va sempre a segno nelle occasioni importanti. E questo è un bello intervento del portiere. Libera tempestivamente. È posizione irregolare però. Sulla fascia, in profondità. Scatta verso il pallone. Occhio al cross. Florenzi, traversone verso il centro. Decide di non rischiare. Ramsey. Sicuri in fase di palleggio. Scatta verso il pallone. La allontana con forza. Alessandro. Spazia via senza preso. Juventus. Non ha subito nessuna sconfitta nello stadio di casa in questa stagione. Su la fascia. È libero. Cross di De Sciglia. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Pastore. Pastore. Riceve in ottima posizione. Da lì può segnare. Pastore. De Sciglia. L'allenatore fa la scendere in corpo dal primo minuto e dalle diverse partite. Bernardeschi. Interessante azione sulla fascia destra. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Prova a scalaccare avversari con una palla lunga. Palla riconquistata immediatamente. Palla a Bernardeschi. De Sciglio. Tocca verso il centro. L'arbitro dice che sarà rimesso dal fondo. La Roma al momento detiene i record dei gol realizzati nel torneo. Può contare su un attacco formidabile. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. E perde il duello fisico con l'avversario. La Juventus. Ha vinto di misura nell'ultima partita. Una vittoria sofferta. E quel che conta però sono i tre punti. De Sciglio. Spinazzola. Recupera un pallone importante. Spinazzola. Diavara. Diavara. Fazio. Pallone lungo. In verticale. La sfera oltrepassa la linea. Sarà rimessa. E' davvero una bella serie di passaggi questa. Fa sportellate con il suo marcatore. Palla intercettata. Cristiano Ronaldo. Allarga il gioco a destra. Bernardeschi. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Se ne va. Può calciare a rete. Passaggio intercettato. Mkhitaryan. Mkhitaryan. Dentala a fondo sulla destra. Ci mette il fisico. E con questo è il pallone. Chiellini. Il primo gol si può attendere. Ma non ci stiamo annoiando. Scatta verso il pallone. De Sciglio. Cross di De Sciglio. Occhio. Cristiano Ronaldo. E hanno sfiorato il gol. Esito sfortunato. Ma ha spaventato non poco gli avversari. Palla a Bernardeschi. Ramsey. Spinge sulla fascia destra. Bel gesto tecnico. De Sciglio. Ha spazio però. Ci mette la testa. Bella l'azione. Anche se non è andata certo a buon fine. Ha colpito bene. Ha colpito bene. Non credo che avrebbe potuto fare meglio di così. Si fa trovare pronto. Allontana il pallone. Cerca la profondità. Tenta di allontanare il pallone. Allontana il pallone. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadra negli spogliatoi. Primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Che accelerazione alla fine della prima metà di gara. Sebbene ci sia un po' di delusione per non essere riusciti a cambiare risultato, sicuramente le occasioni per riprovarci non mancheranno. Devono solo continuare a giocare come hanno fatto finora. Il bilancio a momento è positivo. Nessun gol ancora. Zero a zero. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Si ricomincia. La Juventus ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Matuidi. Tentativo di allungare il gioco. Cerca di superare la difesa con un colpo di glassa. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Prova Matuidi. Alessandro. Mette la palla. In colnata! Non è riuscito a metterla dentro. La Juventus ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. Essi difendono con tanti uomini a centro dell'area di rigore. È evidente che temano il gioco aereo-avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Bernardeschi prova il cross. Cristiano Ronaldo in fuori gioco. Il portiere da calcio a lontano. Fazio. Florenzi. Decide di spedirla dall'altro lato. Ecco Perotti. De Sciglio. Di forza. Anticipa bene. Intercetta la rimessa. Mkhitaryan. Non poteva fare molto altro. Palla filtrate per Ceco. Ceco. Insacca le spalle del portiere. Ed è il primo gol della gara. Ha controllato con il primo tocco. E l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico. Si riparte dall'1-0. Fanno un passo avanti verso la vittoria ma devono rimanere molto concentrati. Alessandro. Di bala. Alessandro. La mette in mezzo. Va di testa. E c'è il gol. Hanno mostrato grande grinta. Caracchere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Bello il cross. Ottima conclusione. Ottimo questo colpo di testa. Preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta. Il portiere non ha potuto fare niente. Cristiano Ronaldo ottiene un buon calcio di punizione. A sinistra con il passaggio. Azione fallosa. Nessun dubbio. Michellini. Spinazzola. Smalling. Fazio. Effetto a un passaggio lungo. Cristante. Sulla destra. Ora Mkhitaryan. Mkhitaryan. Può metterla in mezzo. Cerca il numero. Mkhitaryan. Tenta il cross. E' ben posizionato. E spazia via la palla. Cristante. Non riesce a mantenere il possesso. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Ballone promettente. Il difensore può spingersi in avanti. Quest'errore potrebbe esservi fatale. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Florenzi. La gioca lunga sulla fascia opposta. Riceve dall'altra parte del campo. Recupera palla con un ottimo intervento. Cerca l'uomo là davanti. Cresciamo a Ronaldo. Cerca lo spunto. E il guardaline ha alzato la banderina. Fuori gioco. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Il portiere la spedisce su. Recupera nel possesso del pallone. Spinazzola. Cambia gioco. Palla a Nikitarian. Ottimo dribbling. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Cristante. Provano a ripartire da dietro. Spinazzola. Kolarov. Lanciato sulla borsia di sinistra. L'avversario ha avuto la meglio. Costringe l'avversario al fallo. E fa colpire di testa. Palla che esce di poco e arriva il triplice fischio dell'arbitro. Finisce in parità e nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. E pioggia... Prasla. Grazie a tutti.